Siamo molto contenti perché, nonostante era difficile già disegnarlo, è stato anche molto difficile costruirlo, però mi sembra che tutti gli elementi che erano stati condivisi siamo arrivati alla fine, quindi la struttura della torre, questa griglia che lo avvolge, la serra, il grande ario, sono elementi che erano nati nel progetto e che sono stati fatti anche direi con grande cure. Siamo nella serra, che è l'apice della torre, una serra vera, saranno le piante e saranno la lounge, quindi questo è un luogo di mitigazione, non essendo condizionato, ha una variabilità di temperature che è legato poi al clima invernale e estivo. E' anche il luogo forse più rappresentativo, il fatto di arrivare in cima, di vedere tutta Milano, di avere un luogo anche di luce, mi sembra che sia il valore aggiunto di costruire una torre.